E' stato lo scoppio del pneumatico anteriore sinistro a causare questa mattina sulla A14 alle 8.40 all'altezza di Pescara Nord uno scenario di fiamme e fumo, un tir che trasportava con l'ettame, ha urtato il New Jersey di separazioni delle carreggiate coinvolgendo altre due vetture con i propri detriti. Ad intervenire subito sul posto la polizia stradale e almeno 5 autocisterne dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme, più volte riattivate dal gas contenuto nella cella frigorifera. A viaggiare sul mezzo pesante due autisti, un italiano e un romeno, entrambi provenienti da Corato in provincia di Bari, rimasti illesi entrambi. Per l'intervento dei mezzi di soccorso è stata necessaria la chiusura di entrambe le corsie dell'A14 che ha causato lunghissime code. La colonna di fumo ha raggiunto l'area di Silvi, località Treciminiere. Il traffico è stato riavviato in più tranche anche nel corso dell'intervento dei vigili del fuoco. Più di due ore di lavoro nel corso delle operazioni è stato necessario anche l'utilizzo di una mola. Fumo e fiamme hanno più volte costretto allo stop gli uomini al lavoro. Il traffico è stato ripristinato in tarda mattinata e i disagi maggiori si sono verificati sulla nazionale adriatica tra Pineto e Silvi.